musica 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 dai che carico vieni dai dai non scordiamo una cosa le settimane passano la stanchezza la fatica e i guai al braccio aumentano per Blake siccome io nutro un certo rispetto per te e non lo dico non lo dico perché ho paura di te assolutamente no, lo dico perché ti rispetto è vero ma come vedi sono quattro settimane per me perché io non mi tiro indietro quattro, ok? questo è il risultato e da quello che so pure tu dopo il tuo match contro Wave non sei messo così bene quindi ascolta a me rimandiamo questo momento in un palcoscenico migliore ok? possiamo fare di più che ne pensi? vuoi rimandare? tu vuoi rimandare? vedi? è per questo che io non credo che tu sia un vero campione wild un vero campione wild se ne sbatte di qualche acciacco sai chi è che se ne sbatteva il cazzo degli acciacchi? Adriano! Lui è la feo numero uno essenzialmente Strike ha detto hai voluto la bicicletta? e beccati questo! beh Strike lo sappiamo è bravissimo a parole è ancor più bravo a picchiare forte ma c'è Bricka e poi uno schiaffo e allora eccoci no 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 l'orpiona non va in puglio è proprio quel braccio non riesce poi un calcio di Strike ancora Strike prova una crossline a vuoto a vuoto anche quella di Blake schiaffo ancora un altro un altro si provocatorio Blake che è stato ferito nell'orgoglio Strike lo respinge una volta e due volte poi i pugni del vegan warrior Bob poi Irish sweep hip toss giù 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 Ivan Blake schiaffetto uno 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 eh uno Gip ricordiamo che c'è un timer ma che Ivan Blake perché per Ivan Blake Strike può vincere anche prima eh eh si Ivan Blake vuole vincere prima che il timer scada ricordiamo quello è il tempo poi Adriano ha sconfitto Strike nel loro match vuoto botto botto strike Blake oi una ginocchiata in testa per Strike proprio la testa che ha problemi dopo il match con Wayne ancora rimbalza all'angolo Blake Strike prende la mira gli vuole sparare vediamo cosa fa forse la spia e va nooo nooo Blake con il calcio spedisce Strike fuori dal ring brutto impatto, brutto davvero è brutta anche la caduta di Strike vuole battere il leone Ivan Blake sconfiggere tutti i suoi avversari in un tempo minore Fionola ce l'ha fatta tre volte con Valentine, con Leon, con Jet l'ultimo scoglio è Strike ha fatto tutto da solo Blake però nessuno l'ha messo in questa situazione della strada che portava al giuro del giudizio non so se è stato molto intelligente suicida Ivan Blake poi lo abbiamo detto tante volte per dimostrare cosa va qui ormai il rapporto tra Blake e Adriano è cosa nota a tutti e a tutti qui però Blake va a colpire Strike che finisce nuovamente fuori il tempo scorre il tempo scorre il tempo basta eh sì siamo quasi a tre minuti è giusto una manciata effettivamente sistema SW non mi getta Blake lui sorride ma sappiamo che questo è una gran parte del problema guarda come lo aspetta guarda come lo aspetta assolutamente sicuro di sei Ivan Blake è anche un Ivan Blake che mangia tempo che prende tempo questo poi ancora va a colpirlo ancora sulla testa uno due poi perché io sono il campionato no per questo motivo ora vuoto però vivo Blake strike lo porta su schieramento di strike uno due oh la la Bob qui abbiamo due punti deboli evidenti la testa per strike il braccio è particolarmente evidente per Blake chi vede avvantaggiato sinceramente qui vedo avvantaggiato strike perché il braccio è un braccio martoriato più di Blake dal match di Leone ci sono già passati due match su quel braccio vanno verso l'angolo poi a vuoto a vuoto Blake ti ho pensato il Vigan Warrior e poi stunner strike e poi ancora fuori Blake e sono i suoi minuti adesso che scorrono sono i suoi minuti quelli in cui lui deve vincere eh sì manca poco tre vieni vieni quattro Blake è fuori non ti permetti questa è la differenza tra un vero campione ed un fake attenzione è ancora sull'orgoglio talmente colpito sull'orgoglio che hai visto lo sta prendendo a pugni con il braccio infortunato situazione paradossale per Blake che si sta scavando la fossa da solo e poi pop up no ma è infortunato Blake o no non lo so o ci si sta giocando un brutto trucco a tutti quanti cosa fa? niente non fa niente perché arriva Strike lo prende al volo Vegan Warrior con una ciopp gli apre lo sterno e poi Strike a Superplex a pochi giorni al giorno del giudizio i due sono in bilico sulle corde potrebbe succedere di tutto lì potrebbe succedere di tutto attenzione cosa fa Blake? posso fa Blake Gip Superplex fuori del ring dentro 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 Blake allora sale sulla terza volante e poi Bob è in sicuro può chiudere può chiudere è finita è finita in tempo in tempo è ancora in tempo schieramento uno due no Strike è vivo è ora Blake è qui è qui manca pochissimo manca pochissimo è qui Blake deve pensarci adesso IAN FAKE Bob IAN FAKE IAN FAKE IAN FAKE bravo io te l'avevo detto devi mandare ed è il motivo per il quale io sono campione e tu ancora no brutte brutte queste parole Ivan Blake comunque si deve ricordare che è strike a me lo sai cosa devi fare mi devi puntare si deve ricordare questo Ivan Blake e anche che il tempo sta finendo lo vuole far svenire anche lui lo vuole far svenire lo vuole far svenire manca poco e qui Blake ha perso il senno ha perso tutto ha perso tutto ha perso il senno no no di nuovo di nuovo di nuovo attenzione 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 qui no ancora una volta no ancora una volta no prova in regolare lo sappiamo no no si sta si sta si sta a liberare si libera si libera e poi si installa attenzione 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 strike sul paletto ma qui ma qui ma qui attenzione ora su Anton ora su Anton su Anton Bob si è girato all'ultimo si è girato all'ultimo pazzesco Jim sta per finire il tempo ci siamo ci siamo attenzione attenzione Blake 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 no Blake è finito il tempo Jim è finito il tempo non riesce non riesce per la prima volta Blake non riesce il tempo scade la sfida è finita pareggio Bob pareggio pareggio Jim il peggiore di Roma il peggiore di Roma quando manca poco così poco al giorno del giudizio avevo detto che mi dovrei ribuffare la mano Jim e poi arriva non solo non solo le provocazioni di strike c'è anche Adriano in quarta play in quarta play che arriva Adriano dopo tutto dopo tutto anche il Leone di Roma che ha fatto Il Dio è il Dio va, 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 questo è l'aspetto che ha un Dio? E' chiaro, stanno chiaro i loro di Roma, è il giorno del giudizio, la resa dei conti! Il 23 gennaio, la SIW torna a Colle Salvetti, per uno so come non lo avete mai visto. Il più grande Il più grosso Il miglior evento mai fatto in Italia Il giorno del giudizio Jake, Jake sta portando Attenzione, le ragazze del... ma che succede? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma questo è follia Ma che cos'è? Ma cosa fa? C'è Adriano C'è Adriano, lo prende Lo prende Adriano Attenzione, Attenzione E questi due vanno alle mani Ci sono gli arbitri In situazione incontenibile Ma Blink ha perso la testa Manca Adriano Attenzione Pugno Pugni Attenzione Attenzione Gip, io mi salvo la giacca Gip, io mi salvo la giacca Non riesco a tenere, non riesco a tenere, vado anch'io Attenzione, sì, sì, sì Infatti sì Infatti sì Infatti sì, va anche Bob Va anche Bob Eh sì, tutti Sì, tutti Sì, no, è qui Situazione folle Situazione folle Situazione folle Situazione folle Niente Situazione folle Hanno perso la testa Hanno perso la testa Hanno perso la testa Io sono il cammino Che a te piace o meno Io Sono il migliorio di Roma Questi si ammazzano al giorno del giudizio, questi si ammazzano al giorno del giudizio. Non si era mai arrivati a questo, non si era mai arrivati a questo, non si era mai. Non si era mai arrivati a questo, non si era mai.